Perché una società vada bene? Si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia. Perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore. Basta che ognuno faccia il proprio dovere. Il coraggio di ogni giorno e anche il coraggio di chi con la musica quotidianamente decide di raccontare questa terra e ciò che succede in questa terra. È per questo che abbiamo qui oggi in studio Bernardo Biceglia, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a voi. Bernardo è il gruppo leader, possiamo dire così, del gruppo dei Sud Folk, un gruppo di musica popolare del Gargano e della provincia di Foggia. Come nasce questo gruppo? Il gruppo nasce nel lontano 2003. Eravamo un gruppo di ragazzini, ancora minorenni, alla maggior parte. Anzi, io ero più grande, avrei compiuto 18 anni poi quell'anno, e gli altri molto più piccoli di me. Inizialmente, quasi per gioco, venivamo da altre esperienze di vari gruppi folcloristici di Monte Sant'Angelo. Come ben sapete, a Monte Sant'Angelo, insomma, la tradizione popolare, i gruppi folclorici ci sono da sempre. Abbiamo il gruppo La Pacchianella, che il prossimo anno fa 100 anni, uno dei gruppi più antichi d'Italia. E noi venivamo, la maggior parte, da quel contesto. E abbiamo deciso di prendere una strada per conto nostro, fondando appunto l'associazione culturale Sud Folk, che poi è diventata un gruppo di musica popolare. Abbiamo abbinato insieme un po' di ricerca sul campo, soprattutto io personalmente, ho conosciuto, potrei dire, quasi tutti i vecchietti sul Gargano che cantavano la musica popolare da tutti i punti di vista. La mattinata a Carpino, a Ischitella, a Monte, a San Giovanni Rotondo. Poi negli anni si è evoluto. Ovviamente abbiamo cominciato con piccole serate nella zona, con alberghi, villaggi, anche qualche festival importante. Nel 2005 arrivò il primo festival importante, che era il festival di Scapoli, provincia di Sernia, un festival internazionale della Zampogna. Poi nel 2009 cambia il gruppo. Alcuni ragazzi prendono strade diverse per motivi di lavoro e quindi diventano un gruppo professionale. Subendono a questi ragazzi dei musicisti professionisti e abbiamo poi improntato un discorso che aveva più a che fare con la musica a 360 gradi e quindi a livello professionale. Te lo chiedo subito. Il gruppo nasce nel 2002, a distanza di 20 anni circa. Di quei ragazzi del 2002-2003 oggi sono entrati anche nuovi ragazzi? C'è stata attrattività? Un giovane si avvicina ancora oggi alla musica popolare o no? Fortunatamente viviamo in un territorio dove il giovane si avvicina alla musica popolare. grazie all'attività di gruppi come Sudfolk ma come tanti altri che grazie a Dio ci sono ancora, hanno la forza di continuare come facciamo noi, chi come noi più per professione, chi semplicemente per hobby, però possiamo dire che il Gargano è pieno di gruppi di musica popolare, di ricerca e quindi come direi o in un modo o nell'altro i giovani si avvicinano a questo mondo fortunatamente, dai gruppi folkloristici ai gruppi di musica etnica e quindi almeno sul Gargano comunque in Italia Meridionale bene o male possiamo dire che i giovani riescono a farsi ancora attrarre da questa musica. Poi ovviamente ecco qui entro in un altro discorso, noi come Sudfolk siamo proprio posti questo obiettivo e abbiamo scelto una strada, la strada per arrivare ai giovani è quella di mettere insieme le nostre competenze musicali acquisite nei vari studi, la nostra passione per altri generi musicali, noi veniamo anche dal rock, dal blues, dal funky e quindi abbiamo cercato di mettere insieme tutta questa roba con la musica popolare, cercando però, ed è quello l'obiettivo più difficile che si può sentire anche dai nostri dischi, insomma cerchiamo di andare oltre, di andare verso il rock, appunto come dicevo verso il funk, il blues, ma mantenendo quelli che sono i tratti caratteristici di base della musica popolare garganica pugliese. Probabilmente cercando di seguire questo percorso e diciamo attualizzando ecco un po' anche la musica popolare, questo che vi ha portato poi l'anno scorso, alla fine dell'anno scorso più o meno, con il vostro nuovo album che è Terre al Vento, chiedo anche alla regia se lo può mandare, eccolo qui, questa è la copertina, dove in realtà c'è un brano particolare che è poi il motivo per cui ci ho tenuto a questa tua presenza qui oggi, c'è un brano che si chiama Tramonti all'orizzonte, che cerca proprio di raccontare in realtà questa terra, ciò che spesso non va in questa terra, c'è una frase che ho estrapolato, il male di una terra che vorrebbe decollare, perché appunto spesso affranta dalla criminalità organizzata, dalle mafie, perché raccontarlo con la musica popolare? Allora, ovviamente penso noi tutti i musicisti siamo convinti che la musica possa essere un veicolo, insomma un modo per comunicare, per se vogliamo entrare nelle menti delle persone, che la musica dà emozioni, le emozioni entrano dentro ognuno di noi, quindi comunicare qualcosa con la musica credo sia abbastanza importante. Detto questo, noi con Terra al Vento abbiamo voluto raccontare il territorio, è un concept album, tutti i brani sono inediti e parlano del territorio, questa Terra al Vento, e cito alcune frasi di tutto il disco, tra elogio e condanna, tra santi e demoni, tra vittorie e sconvitte, ed è una terra che vorrebbe decollare appunto arrivando a quel brano, quel brano l'abbiamo voluto scrivere veramente col cuore, perché parlare del Gargano in bene è semplice, basta appunto raccontare il territorio, la storia, la cultura, la religiosità, cioè ne abbiamo dei argomenti, però bisogna anche parlare di quello che purtroppo per noi è il freno di questo territorio, è appunto il malaffare, la delinquenza, la mafia se vogliamo, e noi siamo fermamente convinti che non parlarne è molto peggio che parlarne, quindi siamo davvero convinti che bisogna parlare di questi problemi, bisogna affrontarli per provare anche a combatterli in qualche modo. Grazie per questo racconto, c'era Paolo Borsellino che diceva una frase su Palermo, diceva Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla, perché il vero amore consiste nell'amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare, probabilmente è questo il coraggio di ogni giorno che anche Bernardo Biciglia e con il gruppo di Sud du Folk cercano di fare, cercando di rimanere su questa terra, di raccontarla e di viverla in un altro modo che appunto quello della musica. Grazie Bernardo per essere stati con noi e appuntamento con il coraggio di ogni giorno alla prossima puntata, grazie. Credo ancora profondamente nel lavoro che faccio, so che è necessario che lo faccia, so che è che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuare a fare senza lasciarci condizionare.